Allora, questo per me è il festival più difficile, è la terza edizione che rappresento e per me è questa la più difficoltosa veramente, perché l'emozione è fortissima. Da un lato ringrazio Armando per avermi ancora voluto fortemente qui a Fessia e lo ringraziamo anche per aver voluto fortemente Graziano Accini. Graziano, è sentirci a casa con le emozioni e quindi siamo onorati di poterti avere su questo palcoscenico ed è giusto che per lui ci possa essere anche una sorpresa magica. E chiamo qui accanto a noi Armando Mango. Non se l'aspettava, è veramente una sorpresa. Colpo basso nel colpo basso. Vabbè, ok, già dietro stavo, poi mi deve fare poco luce se avevo posto. E mi è steso definitivamente, guardalo lì. Bravi, bravo Armando! Pronte! One moment. Andiamo un attimo a che dire, un ragazzo che aveva 17 anni e aveva un viaggio perché sennò siamo un po' tutti tutti. Quest'anno non mi succederà. Va bene. Aveva 17 anni, me lo ritrovo per casa. Ho detto, cazzo, ma chi sta fortemente? E niente, poi sono passati, erano 77-78, poi sono passati gli anni 80, siamo insieme a canno dalla mattina alla sera, poi sono in canno, con mamma, vabbè, gli anni 90, 2000, eccetera, quindi sono passati. Siamo stati 30-40 anni insieme, ma veramente dalla mattina alla sera, cioè non è un chitarrista. Ma smettila, dai, basta! E' previso che si ritrova così in questa situazione, è in palazza, perché siete bellissimi. Certo, adesso siamo io e lui, insieme, chiedo solo, ci manca solo vino, un applauso a Pino, così stiamo tutti a parlare. Grazie. Grazie Armando, grazie Pino, grazie Ragoneto. Un applauso a Pino, grazie Ragoneto. Un aggiungo solo una cosa, prego, Mona Lisa, Doro, Graziano, a Cini! Per la parte di poi, in particolare. Vi hai mai fatto il corpo abbassodino e ve ne faccio la gioia. grazie a voi grazie amando mamma mia mamma mia non ci si vede e che succede hanno detto ma lo fai a settembre non ci sarà nessuno grazie grazie per la notte grazie a noi grazie a noi grazie a noi grazie a noi grazie grazie naturalmente anche agli altri ragazzi io sono talmente emozionata